Bene ragazzi siamo qua con un nuovo video, oggi siamo qua tornati con la reaction oggi si gioca Napoli-Frosirone, oggi partita importante per il Napoli oggi bisogna vincere e andare i tre punti dopo che abbiamo vinto anche contro il Monza abbiamo fatto un secondo tempo veramente incredibile contro il Monza bisogna ripetere oggi una grande vittoria, speriamo bene però prima di andare a raggiungere questo primo tempo di Napoli-Frosirone andiamo a vedere le formazioni ufficiali del Napoli che sono sempre importanti le formazioni prima della partita perché proprio bisogna vedere chi gioca del Napoli vediamo, vediamo chi gioca, vediamo chi gioca allora per il Napoli gioca Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Mario Lui, Anguissa, Lobotka, Zierisk, Kvara, Scheriaus, Imen e Politano questa è la formazione del Napoli, giocherà Ostigard al posto di Vangesus ti dico che secondo me è ostigard al meglio di Vangesus perciò non è una partita semplice e dobbiamo giocarci come aveva fatto al Monza ragazzi non dico il primo tempo ma il secondo tempo uguale come al Monza e niente ragazzi, adesso invece Napoli-Frosirone è al primo tempo, andiamo a reagirlo Napoli-Frosirone, primo tempo, dai ragazzi ragazzi insieme a quel primo tempo di Napoli-Frosirone dai, forza eh io ho il secondo tempo di Monza, quale vai buona, tira che parata che parata ma guarda là qua che parata, non ci credo che pigliata che pigliata ho durato i ragazzi che parata caproio mettila mannaccio ma che cul tenni chist ma metti da tira si vai vai qualitano vai che gol sempre lui dopo il coloso con il Monza anche qui popo 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 Matteo 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 dai dai 1-0 Politano una messa altro bel gol grande Poli grande si è brutta la sera penna vai non si penna che ti ha mangiato ma come si fa ma non lo so ma chi si sta mangiando oggi boh si viste la porta solo per la porta o si meno come davvero fai sbagliata dai boh dai ragazzi per la porta stava per la porta dai vai che partisse quindi anche lì si 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 vai 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 meret anche se ho studiato il fanto però vedete se segnava non era male però godo no 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 un match se mi riesciano i cross se mi riesciano se mi riesciano se mi riesciano e te cosa muovi ragazzi c'è qua il primo tempo ragazzi c'è qua il primo tempo 1-0 per il Napoli grande Napoli grande prestazione il rigore parato di Meret io ero in campo secondo me di Meret ragazzi ha fatto un paio di parate buone devo dire la verità grande Napoli un bel gol di politano ci voleva ragazzi il Napoli non sta giocando male forse potevamo fare il 2-0 anche per l'occasione ci siamo divorati con Ozyman quella più clamorosa è stata quella di Ozyman però se rischi un po' un maluccio poi il Bernal un mare lui pure sta giocando bene sto vedendo un grande mare lui oggi e niente ragazzi adesso noi c'è un secondo tempo speriamo di continuare così per questo secondo tempo dai bel Napoli dai dobbiamo stare diciamo dobbiamo trovare il secondo gol per questo secondo tempo speriamo di sì dai c'è un secondo tempo dai ragazzi secondo tempo ora si ragazzi è stato qua il secondo tempo di Napoli-Frosirone dai forza forza facciamo il secondo gol vai uno Smen nooo ma ancora che ti mangi i gol mannaggia mi sembra che ti mangi i gol un terzo gol che ti ha mangiato oggi un terzo ma come è possibile che stai nero nero stai nero stai stai nero stai nero ma come si fa ma come si fa ma che fai Meret ma che fai ma che fai ma che errori sono ma che errori sono ma che errori sono ma che errore è ma che stiamo facendo ma che è sto passaggio così dai dai ma che stiamo combinando ma che fai Meret che fai ma che fai mia mia ma che davvero tu collocato ma che c***o è basta dai ma che c***o è dai ma come fai come fai se fai un passaggio del genere dai ma che c***o è ma che c***o è sta giocando bene ragazzi perché hanno i quei partiti ma che ma che ma che ma che fai Ma che fai ma che fai ma che fai buo si E ne mezzo era direttato Stigardo Dal volo qua a Schelia Ma la sottolanda Osimene Sì Il gol è buono Sì Osimene Sì Il gol è buono Dai penso di sì Il gol di Osimene Ma io se il gol è meno Il gol è stato invalidato Il gol è gol Il gol Vai 2 a 1 Buono Victor Va ragazzi quello è buono, vai 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 non lo faccio questa cosa ma che stiamo facendo? ma che stiamo facendo? ma che cavolo? ma che facciamo questa difesa? dormimmo sempre dormimmo sempre in difesa sembra la stessa cosa mamma mamma vai dai stiamo fare un giorno con noi frositori in casa ma che cavolo combiniamo più dai guarda qua va doppietta dica e dira non ci vuoi andare a fare un gol sempre cinghichiste ha fatto doppietta e fatti vissato ma la difesa dov'è? ma la difesa dov'è? la difesa ma come si fa? mamma mamma chiara due in casa ma come è possibile? come è possibile? finita 2 a 2 ragazzi 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 ormai veramente penosi siamo ragazzi c'è qua la partita 2 a 2 secondo tempo c'è proprio male 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 ragazzi veramente brutto dovevamo fare di più spostare anche di merlui all'ultimo e niente comunque un meretto che non si è capito ha fatto fare un gol che dirà nel primo gol clamoroso ragazzi non ho parole ma che no ragazzi un primo tempo bello dovevamo chiudere il primo tempo un 2 a 0 ci siamo fatti rimontare la Frosirone che è il terzo ultimo in classifica ma comunque male ragazzi male 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 cioè 2 a 0 che ho 2 ma quest'anno non abbiamo voglia di vincere una partita mi so vabbè ragazzi per questo video lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale noi c'è una prossima reaction vabbè ragazzi noi c'è un prossimo video ciao ragazzi forza Napoli Eskalskistan